Oggi 19 dicembre San Berardo per i Terramani è festa patronale, numerosi momenti centrali delle celebrazioni religiose per il Santo Patrono. In particolare tra i momenti centrali della giornata, processione, messa e riapertura della parte del Duomo riparata dai danni creati dal sisma del 2016. In mattinata si è svolta la Santa Messa con il Vescovo di Teramo, Monsignor Lorenzo Leuzzi. Quest'anno la festa liturgica di San Berardo ha un significato direi provvedenzialmente più ricco e più impegnativo perché quest'anno è il nono centenario della sua morte ma soprattutto c'è questa provvidenziale coincidenza della riconsegna della cattedrale nella sua veste restaurata, dunque ritorna nella sua bellezza. E queste provvedenziali coincidenze sono per tutta la nostra Chiesa un segno di attenzione della provvedenza ma anche un impegno per tutti noi. Noi siamo invitati non soltanto a guardare la bellezza della cattedrale che certamente richiama la bellezza del Signore ma ad essere noi una Chiesa che in qualche modo rispecchi la bellezza del Signore. E questa è una grande responsabilità in un mondo in cui la società contemporanea ha davvero bisogno di avere punti di riferimento. In serata la processione del Santo lungo le principali vie cittadine con il rientro in Duomo per la celebrazione equaristica, la benedizione solenne con le reliquie del Santo e la riapertura in Duomo della Cappella dedicata proprio a San Berardo dopo l'intervento di riparazione post terremoto. L'evento che stiamo celebrando è per tutti una grande occasione per rimotivare le nostre capacità, le nostre disponibilità ma soprattutto di recuperare un maggiore senso di servizio perché la Chiesa è chiamata a servire questo nostro tempo offrendo la presenza del Signore e anche sollecitando, incoraggiando tutti a non aver paura del futuro ma soprattutto a ripartire con serenità sapendo che insieme possiamo costruire un mondo migliore.